Ah ve gente sono Larus e coni qui su Rome 2 Total War nell'espansione Hannibal at the Gates con i nostri siracusani Nell'ultima puntata non abbiamo fatto un granché di operazioni militari e l'unica cosa che abbiamo fatto in operazioni militari è stata una ribellione ad Aladia credo E del resto nient'altro però abbiamo praticamente migliorato molto l'economia e anche abbiamo un po' organizzato l'urbanistica delle nostre città Abbiamo creato delle città un po' più specializzate in certi ambiti tipo Messina è diventata la mia città militare per eccellenza Malgrado c'è stato un incendio l'otturno scorso un paio di turni fa E oltretutto Siracusa adesso non ha più edifici militari ha solo edifici culturali e ovviamente un porto però un porto ci sta sempre Un porto militare comunque E adesso devo organizzare l'invasione dell'Italia perché dovrei farla prima o poi Io sto pensando effettivamente una invasione abbastanza complicata Taranto è l'ultimo dei miei problemi È una città fortificata però può essere facilmente isolata essendo praticamente nella penisola pugliese Più che altro il vero problema inizia se io assedio Taranto con le forze che ci sono dentro Senza aver supporto e senza aver assoluta sicurezza che non arrivino nemici dal nord Quindi qual è il mio piano? Il mio piano è abbastanza semplice Io voglio fare un blocco navale a Bari e a Siponto E praticamente mentre che assedio Taranto io prendo velocemente Bari e faccio praticamente un blocking Così mi assicuro che nessuno arrivi da nord Boxentum non sono sicuro di volerla prendere subito Voglio prima guardare un po' com'è la situazione Comunque una volta presa Taranto posso di nuovo dispiegare le mie truppe E avanzare definitivamente Siponto E se non ho già preso a Boxentum Boxentum E infine convergere tutte le mie truppe a Beneventum È un'invasione che devo organizzare molto bene Perché essendo una zona ricca di città e di villaggi Possono comunque arrivare da molti lati e quindi non sono abbastanza sicuro nella mia invasione Detto questo è più importante di sicuro È molto più importante organizzare una buona flotta In questa parte perché se non riesco a tenere sotto blocco navale Siponto e Bari Praticamente il mio piano di isolare Taranto può fallire E oltretutto devo anche portare i miei eserciti Perché solo con questo esercito di terra ovviamente non posso farcela Io ho l'intenzione ovviamente di migliorare un po' quell'esercito Aggiungere nuove truppe Però comunque voglio trasportare il mio esercito Il territorio di Phobos Nella campagna Invece l'esercito degli Ekaton... Questo qua non riesco a pronunciarlo Ekaton Keires Non so che cosa voglio dire Lo voglio lasciare come in guardia Qui Nella... Nelle isole Nella isola Corsa E nell'isola oltretutto Sarda Ok adesso il mio piano E muoverà anche questa flotta Devo fare attenzione Che non voglio passare poi dopo al mare aperto Probabilmente qui Filerò in mare aperto No no non sono finito in mare aperto E dopo voglio passare un attimo a Lilibaeenum Magari così aumenta un po' la potenza della mia flotta Intanto che ci sono però Le... Le Fauci di Okeanos Poi dopo voglio aggiungere un po' di unità nella truppa Così riesco a fare il mio blocco navale Io non sono tanto preoccupato da un attacco navale di Roma Verso la Sicilia Cioè proprio verso la provincia della Sicilia Perché oltretutto possono sbarcare da Messina Però comunque non credo che sia proprio una delle loro scelte migliori Effettivamente una scelta che potrebbe disarmarmi È un attacco alla Corsica e Sardegna È per questo che terrò Un esercito non troppo grande Però comunque capace di tenere un po' di unità Eh... bloccate nel caso se il nemico arriva Senza dubbio Sarà una operazione molto complessa E... Devo... Tutto deve andare secondo... No Non accetto un patto di aggressione I romani vuol dire che non sono pronti effettivamente Per un... Per un'invasione da parte mia Effettivamente io voglio prima aspettare però Che... Il nemico non sia tutto concentrato a Taranto Come adesso Che effettivamente non è che mi fa impazzire Io adesso però voglio ricercare qualche tecnologia d'assedio Tipo le torri d'assedio possono essere una buona cosa Praticamente così ho meno 40% di... Trooper di te Quando faccio un assedio Ed è una grande cosa Intanto Tolomeo Io aumento... Il... Suo... Faccio che fare... Cospiratore di grado 2 Oltretutto ho fatto... Sì... L'editto in Sicilia per stimolo commerciale Che effettivamente mi serve E ora direi Potenziamo la nostra flotta Degli artigli di Okeanos Direi che adesso mi possono servire Un paio di... Emiolia Oppure triemiolia Mi servono barche veloci Effettivamente la... Triemiolia è un po' più veloce Sì Effettivamente mi servono due triemiolia E direi che posso puntare Su un'altra pentere con torre d'arcieri Più che altro le triemiolia Mi servono per fare rapide azioni Di... Fastidio appunto Gli ho in fastidio del nemico Con le triemiolia E attaccare... Attaccarlo di lato durante... Il... Le fasi dello scontro Che sono tipo di... Speronamento E anche Di ingaggio Di ingaggio come si può dire Del... Appunto l'abordaggio A Boxentum Per il momento non c'è nulla Ed è una grande cosa Tanto a Taranto Ci sono troppe truppe Qua c'è anche Un paio Di flotte E qua ci sono anche Dei mercenari Del... Dell'Etruria Dobbiamo fare attenzione a Taranto Taranto potrebbe essere un assedio Molto difficile da... Attuare Intanto Sto guadagnando Guadagnando più soldi Grazie all'editto Non passare a mezzo l'aceno Per piacere Ah si Ok Siamo riusciti ad arrivare Tanto devo Ho guadagnato più soldi Grazie all'editto Di stimolo commerciale In Sicilia Che effettivamente Mi serve abbastanza Stanno organizzando Tante truppe Non so che cosa vogliono fare lì Ovviamente non posso lanciare un attacco Quando ci sono così tante truppe Ammassate A Bari Astakos Il mio eroe Ha aumentato di grado Direi di Aumentare il movimento Che effettivamente Un po' mi serve Devo controllare Come la situazione A Siponto E a Bari Effettivamente Qua ci sono troppe truppe E' difficile Bloccare Bari Se qua ci sono già Delle Grandi Guarnigioni Effettivamente però Qua sembra esserci Una crisi alimentare Forse in prima Mi conviene fare Un po' di azioni Di disturbo Con La mia spia Particolare A Bari Siponto E' praticamente distrutta E magari posso anche Sfruttare il fatto Che queste province Siccome sono state Appena conquistate Posso Sollevare qualche Tumulto popolare E magari così Il tutto Può essere Semplificato Oppure posso fare Una cosa diversa Posso Fare Qualche Rivolta Popolare A Siponto Così praticamente Faccio Arrivare Tutte Un po' di truppe Almeno Dei romani Faccio muovere A nord E così dovranno Occuparsi Delle ribellioni E così Lasciano Taranto Sguarnita Così riesco A prenderla rapidamente Riesco a fare Un blocco navale Sia Siponto Sia Bari E così Riesco anche Magari A Bloccare la strada Boxentum Forse Boxentum Adesso che ci penso Non bisogna Bloccare la strada Bisogna prenderla subito Perché siccome Qui c'è un Piccolo tratto di terra Una piccola strada In cui si può passare Effettivamente Meglio Averla Come città E avere La sua guarnigione Dalla mia parte Nel caso se voglio Attaccare Boxentum Sono disposto Comunque in maniera Molto molto Particolare Queste città Tanto qui Potenziamo la flotta Che ci serve Sempre Direi di aggiungere Un Paio Pentere con arco Aggiungiamo Una balista Leggera E un'altra Pentere E così Direi che siamo A posto Portiamo il nostro Esercito Invece Da Da Crotone No Da Turi Verso Messina Che così possiamo Pian piano Sempre Prima faccio Una piccola pausa Crotone Così riesco A aumentare Di nuovo Le truppe Intanto La mia flotta È giunta Il passaggio Il passaggio In mezzo All'oceano Non è che mi ha fatto Un gran che Bene Intanto Il terrore di Phobos Sta arrivando Due eserciti Non so nemmeno Se mi bastano Per questa operazione Ovviamente Il mio piano È Isolare il nemico Per colpirlo Una volta che Nei punti In cui è più debole Siccome i romani Sono veramente in tanti Devo proprio Trovare qualche modo Per Isolarlo Appunto Effettivamente Adesso bisogna Però di soldi Per fare Delle Azioni di disturbo Facciamo Citiamo Dei disordini Sì Così adesso Probabilmente Al prossimo turno Ci sarà una ribellione Popolare A siponto Così inizieremo A smuovere Un po' le acque Mi servirà anche Il mio eroe Lo devo spostare Lo devo mandare Qua in zona Che così Riesco a fare Delle Altre azioni di disturbo E riesco anche A spiare un po' la zona Molto bene Molto molto bene Ora Qua possiamo Spostarci Direttamente Messina E non possiamo ancora Però Per questo turno Reclutare nessuna Truppa Direi Possiamo già iniziare A Metterci in posizione Intanto Intanto qui c'è una balena Giganterrima Che esce fuori Dall'acqua Oddio Ste balene Mi fanno sempre Prendere degli infarti Ah posso anche fare Altri porti No Direi tenere i soldi Per reclutare Nuove truppe Intanto Intanto arriva L'altro esercito E ok Questa operazione Militare Devo dire Che è abbastanza Coraggiosa Da parte mia Voglio vedere Come funziona Effettivamente Forse dovrei anche Aspettare Qualcosa Interessante Tanto qui hanno emanato Forse qualche ditto Tanto qui ci sono Dovrei fare Sì No abbiamo fallito Il sabotaggio Però comunque Stiamo abbastanza Bene Ora Diamo un attimo A pattugliare la zona E qua ci sono altri Ribelli Che sono sbucati fuori Ribelli latini Possiamo fare Possiamo uccidere qualcuno Qui No Direi proprio di no Poi il loro generale Fa anche abbastanza schifo E quindi potrebbe essere Rimpiazzato Con un generale Un po' più capace Quindi direi di Magari distruggiamo Un po' qualcosa Oppure facciamo Raduniamo Gli schiavi Non so Andiamo Ok Abbiamo radunato Gli schiavi Così magari Possono ribellarsi Poi in futuro E continuiamo a fare Queste azioni di disturbo Intanto che Siamo lì Possiamo fare Intanto che non possiamo Ancora invadere Possiamo comunque fare Queste piccole cose Ora Adesso mi servono Tanti di quegli arcieri Due arcieri possono bastare Tanti di quegli arcieri Ne prendo solo due E infine E infine Vediamo un po' qui Abbiamo fatto tutti gli edifici Un po' di opliti Un po' di spadaccini Forse i spadaccini Perforarla Con i nostri Giavellotti Intanto aumentiamo Le abilità Gorgo Direi di fare Agenti livello 2 E ok Intanto non vedo Segnale di flotta romana E stanno Il piano sta funzionando Stanno spostando Le truppe Qua c'è una flotta romana Che però arriva Posso ingaggiarla Con Qualcosa Devo un po' vedere Ok abbiamo anche ricercato Le torri d'assedio E direi che possiamo Ricercare Qualcosa Di filosofico Tipo Diminuire la corruzione Che Siracusa Ha un grandissimo Malus di corruzione Quindi Muoviamoci Verso Il mare adriatico Questa flotta qui Che cosa Non si sa I venti di ani Che qua possiamo Anche migliorare Un po' la flotta Detesta E l'idra Molto bene Iniziamo a muovere Il terrore di Phobos Su per la Calabria E facciamo Tanti Spadaccini Della Toragia Ora Siamo a posto Qui possiamo Costruire qualcosa Direi costruire Un Groove of Nymphies Credo che sia Un bosco Oppure comunque Qualche giardino Del genere Che così Qui aumentiamo Un po' la felicità E l'ordine pubblico Che serve In queste province Qui appena conquistate Cioè appena Relativamente Conquistate relativamente Da poco Ora Vediamo un po' Che cosa possiamo fare Poi dopo Qui Direi che il primo bersaglio Sarà quella flotta romana Che sta passando Per lo stretto Ok Direi che siamo Completamente pronti Dal prossimo turno Si può lanciare L'invasione Sono un po' In ansia Per questa operazione Che devo fare Intanto qui hanno evacuato Completamente la zona Devo vedere Dove si sono spinti Strano comunque Si sono spostati così Intanto qui a Benevento Possiamo fare Un'altra rivolta Se riusciamo Si Quindi al prossimo turno Probabilmente si Ribelleranno Quindi Possiamo comunque Stare un po' tranquilli Che i romani saranno bloccati A Benevento Da dei ribelli Probabilmente Intanto qui Possiamo iniziare L'operazione Tra poco Ok Qui possiamo controllare Tutto il mar Adriatico Il sud del mar Adriatico Per il momento E ok Magari questo I ventidiani No Forse è meglio Vedere un po' Che cosa vogliono fare Probabilmente vanno A Boxentum Ho probabilmente Già Posso anche Invadermi da qui Però non so Con la flotta Non è che possono fare Un gran che Effettivamente I romani Effettivamente Se prendo Poi oltretutto Boxentum Riesco a controllare Buona parte del mare Quindi non so Un po' Come fare Fermiamoci Un attimo Quindi Il mio piano Di invasione Definitivo È Partire No Forse è meglio Guardare così Partire Colterò i Phobos A Boxentum Invece Con l'altro esercito Dei compagni Di Cerbero Partire Verso Taranto Aspetta Chi è che può Raggiungerla più in fretta Tu in un turno Tu in No Forse è meglio Portare il terrore Di Phobos qui Siccome ci può arrivare Un po' Più in fretta E Con la flotta Degli artigli Di Okeanos Attaccare Bari Fare un blocco navale Magari anche Vedere se possiamo fare Qualche attacco E spugnare la zona E dopodiché Dopodiché Vediamo se riusciamo A fare Un'altra attacca A siponto E liberarla Anche se non riusciamo A attaccare Basta comunque Un blocco navale Tanto Con i campioni Di Cerbero Andiamo ad attaccare Boxentum Tanto qui Con questo piccolo esercito Dovremmo riuscire A Prendere il tutto Siccome è isolato Oh Un'operazione Molto molto audace Vediamo se funziona Quindi con questa flotta qui Che in più Possiamo spostarla Direi per il momento Lasciarla qui Come riserva Qui tranquilli Come riserva Vediamo un po' Che cosa vogliono fare Con la flotta I romani Tanto Ci sono i cartaginesi Che buttano la loro flotta E il loro esercito Passando verso il Mediterraneo E non mi piace assolutamente Ve l'ho già detto Nelle puntate scorse Ok No Fermiamo l'adozione Tanto c'è un surplus Di popolazione in Sicilia Ma direi di occuparne Ce ne occuperemo un po' Più tardi Quindi sicuri che voi Non potete attaccare Taranto Assolutamente no Mi dispiace però Effettivamente Se non possiamo Non possiamo Quindi Dichiariamo di nuovo guerra E ok Partiamo a Voxentum Che per il momento Terremo sotto assedio Intanto che così In questa turno Attaccherò Però intanto La terrò sotto assedio Per un attimo Tanto qui è scoppiata Un'altra ribellione A nord E direi qua Di fare una torre D'assedio Che effettivamente Mi interessa Qua dobbiamo trovare Un modo per Fermare Le unità Vediamo intercettare Un paio di ordini Oppure Di avvelenare qualcosa Possiamo anche Ammazzare il generale Che è di grado Abbastanza elevato No non ce la facciamo proprio Ah facciamo un po' Di avvelenamento No Non ce l'abbiamo fatta Ora Teniamo sotto Blocco navale Bari E ok La mia operazione Sta funzionando Andiamo A nord Con La flotta Delle teste Dell'Hydra E ok Abbiamo tre insediamenti Sotto assedio Due per via terrestre Una per via navale Mandiamo il nostro eroe A siponto Che così possiamo Esplorare un po' la zona Possiamo anche tenere Sotto occhio Al tutto Tanto Questo Esercito ribelle Dovrà tenere occupati Questi romani Per un turno Almeno E quindi Direi di attaccare Velocemente Subito Boxentum Quest'operazione Qui mi sta facendo Venire l'ansia E' abbastanza Compessa Ok partiamo Non dovrebbe essere Una battaglia difficile E con questo esercito Qui voglio anche Attaccare l'esercito Romano Quello grande Che sta per arrivare E comunque Prima che Quello esercito Romano Arrivi a Taranto Che Se arrivano Rinforzi a Taranto L'assedio È comunque Fallito Quindi devo Puntare a Bloccare il nemico E così riesco Isolare Taranto E così riesco Oltretutto A prenderla Con questo esercito Qui probabilmente Attaccherò L'esercito romano Se viene da Boxentum Se invece Non viene da Boxentum Posso attaccare Benevento E quindi Isolare di nuovo Quell'esercito romano E comunque Prima che Quell'esercito romano Arrivi a Taranto Deve passare Anche per Bari E probabilmente Dovrà rompere L'assedio navale Sempre se Non l'ho già Conquistata E nel caso Se l'avessi Già conquistata Sì loro Possono conquistarla Facilmente Ma comunque È sempre Qualcosa che Blocca i romani Durante la loro Invasi Durante la loro Contrattacco Poi magari I romani Torneranno a nord Oppure Magari possono anche fare Una bella difesa Di Benevento Se ossi in loro In una loro Situazione Avrei lasciato Beh Ovviamente Più truppe a Taranto Perché effettivamente Un'invasione E a Boxentum Perché effettivamente Un'invasione Era qualcosa Che si potevano Benissimo Aspettare E oltretutto Avrei Adesso in questa situazione Che hanno Non hanno truppe in zona Avrei Perché tutto sembra così colorito Non so perché Mi sembra più colorito Strano Avrei Adesso Se ossi loro Terrei Tutte le mie truppe A Benevento Che così Almeno Se i romani Vogliono Se io Appunto Siracusani Voglio Attaccare quella zona Dovrei passare Per Punti Abbastanza difficili Ok Questa battaglia Non sarà difficile Ma è meglio Che la organizziamo bene Perché non voglio Perdere troppi uomini Perché perdere Sarà una campagna lunga E probabilmente I romani Hanno più uomini di me Quindi Non voglio perdere uomini Inutilmente Voglio Mandare due truppe di picchieri Qui E support E invece Con dietro Supporto Magari una picca Non so E invece Avanzare Con altre due unità Di picchieri qui Vedere di isolare il tutto No Forse è meglio Tenere i picchieri tutti qui In modo che così Riesco a tenere tutto Sotto occhio la zona E intanto Bersaglio con gli arcieri E le mie unità Di Thorax Swordman Passeranno per Questa zona qui E Spugneranno Il centro cittadino Senza troppi problemi Quindi Io voglio Sviluppare Tutta la mia formazione Siccome È in città E I vicoli sono abbastanza stretti Voglio formarla in Verticalmente Vediamo se funzionerà I miei arcieri Possono essere risposti così E Voglio dare supporto Con I miei opliti Cazzuti Alle unità di picche Intanto che I miei Sbaccini Dato raggio Avanzano Quindi Mettiamo in La guicchia In Formazione Quest'unità E Avanziamo Voglio non stanchare troppo le truppe Perché le picche Se stancate Come l'ho detto Non correte Le picche se stancate Combattono con Non dovete fare Ah si Potete andare in formazione di picche Così siete più cazzuti E comunque Le picche se stancate Comunque nel combattimento Corpo a corpo Possono fare Veramente pena Guardate che cazzute Che sono le picche Intanto qui ci sono I miei spadaccini Che possono avanzare Abbastanza Velocemente Se vogliono Devo mettere in posizione Più velocemente possibile Tutto qui ci sono Anche un po' Di emiolia Romane Con spray Giavellottisti Quindi se riesco Riesco anche Intercettarle E quindi Eliminare Dei giavellottisti Che possono darmi Dei problemi Poi dopo In futuro Qui ci sono Dei rorari Che sono delle guardie Cittadine Fanno abbastanza schifo Qua ci sono Delle leve Di giavellottisti Io ho gli arcieri Quindi gli arcieri Hanno una cittata Più lunga Rispetto Ai Giavellottisti E quindi Ho un vantaggio Tattico Sotto questo Punto di vista Quindi anche Nella schermaglia Non dovrei avere Troppi problemi Qui stanno Per sbarcare Quindi mettiamoci Subito in formazione Vediamo se riusciamo A pinzarli Velocemente Voi correte In avanti Dai Riusciamo a beccarli Sì Probabilmente sì Solo che non mi dà Il comando Di corpo a corpo Ok Queste unità Ovviamente Sono Smaciullate Sotto i Spadaccini Probabilmente Riuscirò anche A A perdere Nessun uomo In questo Piccolo Scontro Ok Grandissimo Grandissima Piccola Vittoria Non ho perso Nessuno In questo piccolo Scambio E ora mettiamo Le truppe In formazione A colonna Ok Le mie truppe Sono Non sono stanche Quindi direi Di far avanzare Gli arcieri Sempre Incolonnati Perché oltretutto Anche in colonna Tenere le truppe Da tiro In colonna È una Tattica Molto Molto Furba Però Vedo che È adottata Sempre Da poche persone In particolare Serve in difesa Ma anche In queste Occasioni In cui ci sono Le truppe Nemiche Che si difendono In spazi Angusti È molto utile Perché Se il nemico Mi attacca Frontalmente Io posso sparare Con tutte e tre Le linee Di arcieri Però prima Di arrivare A questa linea Di arcieri Quindi si ritererà Poi dovrò arrivare A questa linea Di arcieri Questi qua Si ritereranno E viceversa Continuerò a formarmi A linee In modo tale Che il nemico Dovrà sempre Sempre Correre Io potrò Sempre Sempre Sparare Non con tutte e tre Le truppe Comunque In maniera alternata Un po' con tutte Quindi avanziamo Con la nostra Formazione a colonna Avanziamo E iniziamo a posizionarci Anche qui Se vogliamo spostare Tutti quanti Qui I romani Non so perché Ok Qua ci sono Dei rorari In posizione Quindi dovrei Sparare Con tutte le unità Al momento Non sono Troppo potenti Queste unità Di rorari Comunque Siccome posso Entrare Nella schermaglia Io sparo Volentieri Mettiamoci in colonna E portiamo avanti Pian piano Le picche Ok Lasciamo sparare Queste unità Di rorari Ovviamente Sotto il fuoco Di miei arciari Non è che possono Fare un granché L'unica cosa Che dovrei Mandare in scout Qualche unità Perché non riesco a vedere Un granché Qui Quindi forse Un'unità di spade Ce ne mi serve Così riesco a vedere Il tutto Sì qua ci sono Dei rorari Altri rorari Riesco a vedere Un po' tutto Io sono abbastanza Interessato Invece Su queste unità Di leve Magari sparo Solo con Un'unità Sulle leve Invece Sul resto Delle truppe Sparerò Alle altre truppe Ovviamente Queste leve qui Mi preoccupano Un po' Perché ovviamente Il corpo a corpo Cioè nel corpo a corpo Quando mi avvicino Posso lanciarmi I giavellotti E i giavellotti Comunque sono abbastanza Pericolosi Per unità Per qualsiasi unità In particolare Queste unità Di picchieri Che appena Hanno qualche buco Nella formazione Riesce a sfondare Forse è meglio Che concentro il fuoco Su Quelle leve Pericolosi 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 Da Appunto D'attacco Cioè da difesa Per contrastare Questo attacco Ok ritirata No ma già è giusto Ce l'ha ritirata Automatica Non fate ritirata Automatica Soldati E mettetevi Tutti quanti qui Adesso Siccome avete fatto Già la ritirata Automatica Basta che non vi fate Pensare I picchieri Sono messi Molto Strani Ah Oddio Mi è venuto Paura Ho avuto paura Quando i picchieri Si sono riformati Ok I merceri Possono anche Fermare Qualsiasi cosa Che stanno facendo Tipo Girateli Anche Se non sperate E non so Perché l'emico Sta facendo Avanti e indietro Intanto qui possiamo Partire con Il piccolo assalto Ok Qui sta andando Avanti e indietro Si fa Sta facendo Punzecchiare Delle mie unità Ok Riesco a tenerli Sempre a distanza Non è un Uno scontro Troppo difficile E ok Iniziamo A avanzare Iniziamo a spugnare Anche qua Il centro cittadino Queste unità Di astati Non so Se riescono A tenere Contro L'assalto Delle mie truppe Vediamo un po' Chi vince Ok Il corpo a corpo Stiamo vincendo Qui Anche se stiamo Perdendo un po' Di uomini In questa truppa Qui Tanto avanziamo Con le altre unità Di picchieri Non troppo Velocemente Però Già Ho sfanculato La formazione Ok Qua stanno arrivando Dei Rorari Molto Dubbiosi Abbassate le picche Soldati Abbassate le picche Ok Hanno visto Che si sono abbassate Le picche Si sono ritirati Fortissimi Sti soldati Ok Abbiamo vinto La battaglia Senza troppe perdite Verso 24 uomini Ok Una battaglia Giocata Tatticamente Molto Molto anche lenta Se vogliamo dire E abbiamo Strucidato Tutte le unità Che c'erano Dentro Questo Boxentum Questo villaggio Non so come si chiama Quindi abbiamo anche Comunque assicurato Una piccola posizione Strategica Sono Sono Molto Soddisfatto Molto Molto Vediamo un po' Come si evolverà Poi dopo la situazione E Il tutto Attualmente Voglio vedere Più che altro Che vuole fare Quell'esercito A Benevento E comunque una volta Conquistate Queste città Nella Zona Comunque Della Campagna inferiore Della Basilicata Della Puglia E una volta Conquistata anche Benevento Dovrò fare Una nuova tattica Probabilmente Farò Dovrò affrontare Il nemico In campo aperto E quindi Credo di O Tenere il punto Molto stretto Di Benevento E affrontare Tutti i nemici lì Prima di avanzare Facendo un po' Di razzie navali In giro Oppure Utilizzare Una Tattica Da guerra Di sfinimento Praticamente Facendo un po' Di razzie E anche Utilizzando Le mie spie E i miei personaggi Per incitare Un po' Disordini In giro Qua una I Veneti Sono in guerra Con noi Oltretutto Non l'ho notato Effettivamente E ok gente Credo che per questa puntata Sia tutto Vediamo poi dopo Come andrà avanti Questa mia operazione Militare Spero Bene Perché effettivamente È abbastanza complessa E ci vediamo Alla prossima gente Da Laura è tutto Ciao